Un saluto dal Tg della mobilità, iniziamo dal litorale dove è stato ripristinato il normale percorso della linea di bus 011 su via Campanari. Ed è stato riaperto al traffico viale dei colli Portuensi all'altezza di via di Monteverdi. La strada era stata temporaneamente chiusa per un cedimento del manto stradale, riaperto dunque viale dei colli Portuensi all'altezza di via di Monteverdi. Ripristinato anche il normale servizio di trasporto pubblico, quindi ripristinati i percorsi consueti delle linee di bus 31 e 33.